Ciao amici, sono tornato con un nuovo video loquendo di Modern Warfare 3. Spero che anche questo video vi sarà di vostro gradimento. Cominciamo. Via. La scorsa volta ho sbloccato diversi nuovi accessori tra cui il mirino termico. Ora vediamo come funge. Per sicurezza incomincio a piazzare una Claymore. Oh che figata. Con questo bel mirino sarà più facile beccare i versali anche a lunga distanza. Appunto, come non detto. Oggi mi sento particolarmente forte. Porca troia lurida bastarda. Ma qui spuntano in amici solo quando ti fottono alle spalle. Ratatatata. Puntana vacca bastardo di un cecchino. Prima o poi vi troverò e vi farò mangiare così tanti proiettili che peserete il doppio. E' sparito. Sento solo spari e esplosioni ma non vedo un cane in giro. Ascio abruzzichino una e beve. Morto. Modalità cecchino. Dai ragazzi mettetevi il zubbottino che fuori fa freddo. Bastardo. Vieni fuori. Ma ti venisse un accidente. Piazziamo una bella scatola in forza. Speriamo che almeno questa volta funzioni. Ma cos'è tutto questo fumo? Siamo in battaglia e c'è gente che si fa le canne. Oh, ma a chi cazzo spari? Sono un tuo compagno, ricordi? Sto trattenendo più io il fiato per mirare a quei salami laggiù, di quanto non lo faccia la pellegrini mentre nuota. Fanculo, me ne vado via. Provo a tornare sopra. Forse ho visto qualcuno. Infatti eccolo là. Mi hai fatto venire di nuovo su e tu te ne sei andato. Ok, ora arriva il mio compagno e ti sistema lui. Porca di quella stromaledettissima puttana. Non so nemmeno io come ho fatto a sopravvivere a un simile attacco. Lo sai? L'hai fatto incazzare. Infatti ti sta ringraziando. Per colpa tua ci stavo per rimettere le penne pure io. Sei pure un travestito. Ma che cazzo ci fai qui? Quelli buttano via le bombe come se fossero coriandoli. Ma? I nemici appena fanno una kill si volatilizzano. Ay 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 ay. Eccoli qua i nemici. Morti ma pur sempre nemici. Uffa che noia. Mi sa che questi in realtà non sono dei nemici, sono delle talpe. Non si fanno mai vedere. Questi sono tutti i nemici. Ma dove sono i nemici? Non si sono più rigenerati. No, ora spiegatemi voi che dedo me che se, anche se mi metto in bella mostra sul terrazzo, non c'è nessuno che vuole farmi fuori. Penso che Raccoon City, sia più popolata di questo make. Ci sono più morti che vivi. Non trovo un'anima in giro. Manco fossi un camper che se ne sta fermo in un punto. Quando sento degli spari, sono sempre i miei compagni a far fuori i nemici. Mi sento escluso dalla battaglia. Ciao. Ciao amico. Guarda che di là non c'è nessuno. Ma di qua sì. Cazzo. Spero di farti esplodere con una bella bazzucata. Niente. Cazzo che male. C'è più traffico di gente alla fine del daydomec che durante il daydomec. Uno. E due. Cazzo che non c'è nessuno. Dobbiamo continuare così. E ce lo vieni a dire alla fine che stiamo vincendo. Siccome ho ancora la torretta sana a disposizione la piazzo. Così, tanto per beccare qualche punto in più. Mai provato i proiettili come supposte? Ora sì. Vinto l'orovo. Spero che vi sia piaciuto anche questo video. Ci vediamo alla prossima. Spero che vi è passato. Spero che vi sia piaciuto anche questo video. O che vi è passato è ti evitiamo. O che vi sia piaciuto anche questo video. Spero che vi sia piaciuto anche questo video.